In questo video parleremo di schede di allenamento per la massa muscolare e cercheremo attraverso delle nozioni di base di comprendere quali sono i meccanismi che ci porteranno poi a scrivere una scheda di allenamento con questa finalità specifica. Ci teniamo a precisare come questo video è un video di base di nozionistica di teoria dell'allenamento, non verranno affrontate tutte quelle che sono le nozioni avanzate che invece verranno rimandate ad altri video o eventualmente ad altri corsi specifici. Pertanto tutto quello che verrà trattato è indicativo, compreso l'esempio pratico che chiaramente dovrà essere poi personalizzato in base al soggetto e al cliente che avremo di fronte. Iniziamo così subito da alcune domande fondamentali a cui dobbiamo dare una risposta. Soprattutto il nostro cliente dovrà darci una risposta. Una delle prime domande è soprattutto inerente a quali sono i gruppi muscolari più carenti nel nostro cliente o i gruppi muscolari più carenti su di noi nel caso la scheda di allenamento fosse per noi. Dobbiamo precisare come nella maggior parte delle palestre si tenda a seguire una routine che è solitamente il lunedì petto e bicipiti oppure petto e tricipiti ma sono delle informazioni di base che non tengono conto dell'individualità del cliente. Dobbiamo sempre ragionare per priorità e specificità quindi se noi abbiamo un gruppo muscolare carente rispetto ad altri sarà cruciale che si cominci la settimana col gruppo muscolare a noi più carente. Più carente non significa che ci piace meno proprio più carente nel vero senso della parola quindi dove abbiamo più difficoltà a mettere su intensità quindi a caricare il bilanciero abbiamo più difficoltà a creare uno stimolo proficuo poi per l'aumento delle masse muscolari quello sarà il gruppo muscolare target dell'inizio della nostra settimana quindi le persone che sono per esempio carenti sulle gambe sarà loro priorità cominciare per esempio con le gambe e non invece dal più tradizionale petto e tricipiti del lunedì. Dobbiamo poi rispondere ad una seconda domanda cioè quanto tempo abbiamo a disposizione nel totale nell'arco della nostra settimana quindi se abbiamo la possibilità di allenarci almeno due o tre volte possiamo decidere di utilizzare o dei protocolli delle schede che vedano la compromissione di tutti i gruppi muscolari per ciascun allenamento in questo caso parliamo di schede total body oppure possiamo decidere di dividere i gruppi muscolari in due parti quindi magari la parte superiore o parte inferiore oppure partendo dalla zona anteriore quindi gruppi muscolari anteriori e quelli posteriori questo chiaramente non soltanto è a discrezione dell'istruttore ma soprattutto deve seguire alcune linee guida che riguardano la postura del soggetto e soprattutto quello che è lo scopo l'obiettivo finale del cliente se noi abbiamo a disposizione circa un'ora sarà importante inoltre che la scheda di allenamento tenga conto di quello che è il tempo necessario per svolgere ciascuna serie ma soprattutto del tempo di recupero indispensabile tra una serie e la successiva ricordiamo che la somma di questo ci dà poi il tempo per poter svolgere quella scheda di allenamento molto spesso gli istruttori non tengono conto di quello che è il tempo a disposizione del cliente quindi se il tempo a disposizione sono 60 minuti dobbiamo in quei 60 minuti racchiudere il riscaldamento parte centrale della seduta e il defaticamento finale in ultima istanza dobbiamo capire qual è il grado di esperienza del nostro soggetto proprio perché soggetti altamente inesperti sarà importante rispettare alcuni criteri chiave tra cui privilegiare il volume rispetto all'intensità del carico proprio perché i soggetti neofiti hanno come grande problematica quella di non avere un alto grado di coordinazione intra ed intermuscolare così in questo caso sarà fondamentale fare volume privilegiare il volume dell'allenamento rispetto all'intensità man mano che aumenteremo il nostro grado di esperienza a questo punto potremo aumentare le intensità del carico quindi proprio i chili sollevati per ciascuna ripetizione vediamo così un primo esempio di scheda di allenamento per la massa muscolare in modo particolare per l'ipertrofia muscolare detto con un linguaggio leggermente più tecnico ricordiamo sempre che quello che vedremo tra poco è un esempio quindi ci sono i fanatici dei bilancieri dei manubri che sono contrarissimi alle macchine isotoniche viceversa chi privilegierebbe nei soggetti neofiti soprattutto le macchine isotoniche rispetto ai pesi liberi non stiamo ovviamente qui a discutere su cosa sia meglio ma cercheremo di dare una linea guida di base che andrà poi personalizzata da cliente a cliente quindi come cominciare a compilar la nostra scheda di allenamento intanto l'intensità da tenere per un soggetto neofita che inizia ad approcciarsi allo sviluppo delle masse muscolari dovrà testarsi più o meno tra il 70 e 75 per cento del suo massimale teorico non potremo testare il massimale in modo diretto quindi si andrà in maniera abbastanza empirica quindi si farà caricare un determinato peso piuttosto si fa un ramping quindi in salita per cercare di capire quali sono le dieci dodici ripetizioni con una determinata intensità del carico attenzione perché quando testiamo l'intensità del carico alcuni istruttori tendono a fare calcoli sull'arrivare al termine della serie completamente in esaurimento l'obiettivo qui non sarà l'esaurimento e teniamo conto che il soggetto che si affaccia a questa scheda di allenamento per la massa muscolare dovrà aver svolto per almeno un periodo variabile di uno due tre mesi un primo condizionamento di base sulla muscolatura quindi un condizionamento muscolare che gli consenta poi di gestire anche il famoso 70 75 per cento del proprio massimale teorico vediamo poi qual è il volume per i neofiti bisogna tenere presente che circa 8 12 serie sono quelle standard utilizzate per i soggetti che non sono così esperti di alcune intensità di carico e quindi si affacciano per la prima volta a intensità che hanno proprio come obiettivo quello di incentivare lo sviluppo delle masse muscolari una ricerca di pochissimi anni fa ha dato delle linee guida su qual è il volume da seguire su soggetti neofiti intermedi ed esperti si è visto da questa ricerca come soggetti neofiti debbano attestarsi tra le 8 e le 12 serie per iniziare a creare un primo condizionamento muscolare soggetti già intermedi che hanno un'esperienza di allenamento intorno ai 4 6 mesi possono iniziare ad avvicinarsi alle 15 serie arrivando anche a toccare le 20 serie noi consigliamo che questi soggetti siano almeno in possesso di un anno di lavoro proprio perché è importante che ci sia la gradualità nei carichi utilizzati quindi gradualità e progressività sono i due criteri chiave sempre quando noi cerchiamo di compilare una scheda di allenamento in ultima istanza dobbiamo tenere presente i recuperi il recupero è un parametro che viene spesso trascurato anche dagli istruttori ma è un parametro chiave per veicolare l'obiettivo ultimo dell'allenamento quindi se noi abbiamo come obiettivo quello di aumentare le masse muscolari sarà importante attestarsi con recuperi brevi che possono andare dai 50 secondi fino a circa i 90 secondi quindi il minuto e mezzo perché questo perché è importante tenere presente quello che è la densità del carico che non vedremo in questo video proprio perché ci dilungheremo troppo in teoria dell'allenamento e non è il focus di questo primo video quello che può essere un esempio quindi di scheda di allenamento per chi vuole aumentare l'ipertrofia ecco come la potremmo impostare una fase di riscaldamento che è obbligatoria e spesso viene trascurata da coloro che sono già soggetti intermedio esperti nel mondo dei sovraccarichi e che invece è una fase delicata è una fase cruciale intanto per innalzare la temperatura corporea cercare di mettere in moto intanto delle articolazioni che magari su alcuni gradi di movimento è già da diverse decine di ore che non eseguono determinati movimenti specifici e poi sarà importante eseguire della mobilità articolare prima chiaramente di affacciarsi al sovraccarico effettivo quindi sarà importante all'inizio eseguire due fasi del riscaldamento una fase un po' più generale e poi una un po' più specifica come scheda di allenamento abbiamo deciso di inserire un protocollo chiaramente è un esempio molto basico di quello che può essere una scheda in split routine split routine identifica la divisione dei gruppi muscolari in diverse fasce nei diversi allenamenti della settimana che significa che non eseguiremo in un unico allenamento tutti i gruppi muscolari in questo caso si parla di total body ma in questo caso vedremo proprio un esempio di divisione dei gruppi muscolari ed è così che nel giorno 1 abbiamo deciso per esempio di allenare il petto e i bicipiti ed ecco qui un classico esempio quindi un primo esercizio che vedrà la panca piana col bilanciere un secondo esercizio con panca a 30 gradi due manubri un terzo esercizio con croci panca piana due manubri per poi passare al secondo gruppo muscolare della giornata che sono i bicipiti brachiali quindi passando dal carlo con due manubri al carlo al cavo basso vedete come le serie stanno sempre tra le 8 e le 12 abbiamo deciso di aumentare un po' di più il volume sui gruppi muscolari più grandi tenere un volume leggermente più ridotto per i gruppi muscolari più piccoli che comunque verranno coinvolti nel momento in cui faremo esercizi multiarticolari sui muscoli più grandi e poi dobbiamo ricordare sempre la fase finale della seduta nella fase finale della seduta utilizzeremo sempre dello stretching quindi un qualche cosa che ci permetterà di ritornare un po' ad una posizione di riposo prima di andare a docciarci e prima di uscire dalla palestra abbiamo inserito però un altro criterio che può tornare utile il tempo di recupero da utilizzare per esempio tra esercizi dello stesso gruppo muscolare che sarà leggermente più ridotto rispetto al tempo di recupero che verrà utilizzato tra gruppi muscolari differenti ricordiamo anche qui che ovviamente l'esempio è indicativo quindi non sono regole rigide perché poi bisogna personalizzare l'approccio a seconda del cliente che avremo questo è la prima giornata di allenamento abbiamo deciso quindi di dividere la scheda su tre giornate e proprio perché è una split routine nella seconda giornata di allenamento privilegieremo invece il dorso e i tricipiti ma abbiamo inserito anche in ultima istanza quelli che sono gli addominali e i lombari in realtà la fascia sostanzialmente addominale con un esempio quindi alzando quello che è il numero delle ripetizioni abbassando così quindi le intensità di carico per quanto riguarda gli addominali in realtà come si allenano gli addominali se noi vogliamo una forte ipertrofia sugli addominali bisognerà adeguare anche le intensità di carico sugli addominali e non come è stato fatto all'interno di questo esempio vedete che abbiamo deciso di selezionare anche qui come per il gran pettorale di fatto tre esercizi qui nello stessa misura l'ho trovata nel gran dorsale e poi come abbiamo fatto per i bicipiti brachiali una misura più o meno simile per quanto riguarda i tricipiti brachiali vediamo poi la terza giornata di allenamento dopo ovviamente aver seguito quello che è il riscaldamento e il defaticamento ovviamente la prima fase e l'ultima si ripetono continuamente e nella terza giornata terminiamo i gruppi muscolari residui con le gambe, polpacci e le spalle questi sono esempi che ci possono venire in aiuto nel momento in cui dobbiamo stilare una scheda di allenamento che cosa però dobbiamo portarci a casa da tutto questo? intanto il fatto che l'intensità veicola un po' quello che è lo stress meccanico muscolare quindi se noi vogliamo ovviamente aumentare l'ipertrofia muscolare sarà importante non soltanto adeguare il volume ma adeguare anche l'intensità del carico ricordiamo che soggetti neofiti che eseguono per esempio degli allenamenti con intensità molto più basse magari arrivando a fare il 3x20, il 4x20 quindi carichi più bassi ma ripetizioni più elevate non è detto che non sviluppino comunque un certo grado di ipertrofia muscolare proprio perché il loro decondizionamento li vedrà anche molto più ricettivi a aumentare quello che è il volume muscolare da una condizione di partenza quindi il primo grande falso mito è che l'ipertrofia muscolare si fa soltanto tra l'80% del carico e carichi leggermente più bassi intorno al 70% di un RM in realtà questo è un falso mito perché di fatto l'ipertrofia muscolare è specifica a seconda dell'intensità utilizzata quindi a intensità particolare otteniamo ipertrofie specifiche ridividendo quella che sarà l'ipertrofia miofibrillare da quella sarcoplasmatica ma esiste anche una terza tipologia di ipertrofia che è quella mitocondriale che è quella un po' più tipica di chi sostanzialmente esegue sport di resistenza questo non significa che persone che eseguono schede di allenamento per la massa muscolare come per esempio quella presentata nell'esempio di questo video non abbiano anche un po' di compromissione per quanto riguarda l'ipertrofia mitocondriale quindi ovviamente c'è sempre una compartecipazione una concatenazione di eventi fisiologici che avvengono contemporaneamente chiaramente le intensità, i volumi, le frequenze di allenamento modificheranno di più l'obiettivo verso una direzione rispetto all'altra cosa dobbiamo sempre ricordare però da questo breve video? dobbiamo ricordarci intanto che i protocolli sono tutti indicativi non esiste la migliore scheda di allenamento in assoluto e questo dobbiamo portarci alla casa perché proprio come in questo video non bisogna prendere per vero la scheda che abbiamo citato come esempio allo stesso modo negli altri video che potete trovare in rete o i vari articoli diramati nei diversi blog di fatto tengono conto di alcuni esempi che possono tornare utile al laureato in scienza motoria ma che non vanno utilizzati come copia e incolla su tutti i clienti immaginiamoci per esempio un cliente che ha avuto un problema al menisco al crociato anteriore eccetera ci saranno dei gradi articolari che non potranno essere sfruttati al massimo e bisognerà prestare particolare attenzione su questo quindi vi dovete avvalere anche dell'aiuto di un fisioterapista ricordiamoci inoltre che all'avanzare dell'esperienza del soggetto sarà fondamentale modificare poi il nostro programma di allenamento devo dire che all'interno delle sale pese a volte si cade in errore di cambiare la scheda ogni 3-4 settimane a volte gli adattamenti cronici vedono proprio perché si chiamano cronici una ripetitività nello stimolo quindi a volte è necessario prolungare il tempo di una scheda di allenamento e sarà cruciale non utilizzare una scheda solo per quelle 2-3-4-5 settimane ma si potrà protrarre anche nell'arco di 4 mesi per esempio quindi alcuni adattamenti richiedono tempo all'avanzare dell'esperienza del soggetto sarà fondamentale mantenendo un medesimo obiettivo modificare gli stimoli che si daranno in maniera tale da dare al soggetto anche la possibilità di migliorare il grado di ipertrofia che si troverà già ad un buon livello ovviamente proprio perché avrà passato diversi anni a condizionarsi con i sovraccarichi ricordiamo inoltre che è fondamentale studiare molto di più la fisiologia e la biochimica rispetto ai protocolli che noi troviamo in rete proprio perché i protocolli della rete non tengono conto di tantissimi parametri soggettivi se un cliente ci richiede del potenziamento muscolare per esempio per uno sport specifico beh l'ipertrofia muscolare è un effetto di quello che sarà poi la preparazione sport specifica la finalità non sarà aumentare a dismisura l'ipertrofia muscolare perché potrebbe non essere più funzionale per quel determinato sport abbiamo cercato così in pochi minuti di dare delle linee guida semplici sulla teoria dell'allenamento e per tutti coloro che sono interessati all'ipertrofia muscolare abbiamo scritto anche all'interno del nostro blog un articolo di approfondimento se ci sono domande o dubbi postatecili qui in fondo al video e per tutti coloro che sono interessati a queste tematiche avete sempre il rimando al sito www.corebosport.com noi ci rivediamo al prossimo video